ciao a tutti vi voglio mostrare oggi un kit che ho comprato su amazon mi è stato regalato per natale un kit della dmc da mio fidanzato molto carino però lì c'erano i fiori quando ho visto questo su amazon mi è piaciuto tanto perché mi piaceva l'idea del ricamo senza però fare il punto croce che richiede un pochino più di attenzione con i vari spazietti nei vari buchini ovviamente anche questo richiede attenzione però credo che sia più semplice mi è piaciuto tanto il disegno con questi tre uccellini sul rametto il nido e la scritta happiness l'ho preso allora il kit comprende queste istruzioni in inglese ma sono facilmente comprensibili con tutti i vari colori numeri come dovete fare i vari tipi di punto e poi vi dice anche cosa molto molto importante quanti fili dovete utilizzare quindi two strands three strands e via discorrendo cioè qui il set vi da vedete dei fili ogni filo poi va diviso ovviamente chi ricama questo lo saprà ogni filo va diviso in più fili e qui vi dice quanti ne dovete prendere quindi poi comprende il telaietto che ovviamente non è di legno ma di plastica ma insomma va bene lo stesso perché il costo che ha avuto questo questo kit questo costava all'incirca meno di 7 euro insomma devo dire che ne valeva la pena la grandezza non è neanche troppo piccolo io ne ho regalato uno alla mia amica che comprendeva tre di questi ricami però erano più piccoli rispetto a questo qui questo già abbastanza grandicello io credo che poi lo appenderò direttamente con il telaietto perché mi piace questa senza dover prendere quadri quadretti mi piaceva molto appenderlo direttamente con il telaietto e ci sono tra l'altro ne vedo tanti appesi direttamente così questo è il disegno sulla tela quindi vedete basta soltanto andare poi a riempire soltanto insomma comunque ci vuole un po di attenzione però non è difficilissimo andare a riempire questi spazi che il kit presenta disegnati ovviamente qui si raccomandano di non bagnare la tela prima di terminare il disegno perché altrimenti il disegno poi svanisce ma non credo che avremo bisogno di lavarlo quindi va benissimo e poi qui ci sono come vi dicevo tutti i colori divisi per numero per cui semplice piuttosto semplice ora ovviamente la difficoltà sta nell'essere precisi e nel riuscire a realizzare i punti che spiegano le istruzioni perché se vedete vi faccio vedere da vicino ecco vedete vi spiega tutti i vari tipi di punto saten outline straight line chain stitch long and short stitch quindi tutti i vari tipi di di punto ok però diciamo che seguendo le immagini dovrebbe essere abbastanza semplice quindi sicuramente il ricamo è utilissimo al di là del del quadretto in sé ma è carino anche perché con il ricamo poi si possono andare a decorare ad esempio delle creazioni a uncinetto ai ferri quindi delle casette ad esempio realizzare delle roseline appunto vapore delle piantine delle finestre insomma ricamarle anziché farle e poi tucirle che può essere una una bella idea ecco qui quindi vi volevo mostrare questo kit perché su amazon ce ne sono tantissimi con tanti soggetti diversi quindi chi ama ricamare ad esempio questo tipo di ricamo che non è il punto croce è un po tridimensionale diciamo secondo me è bellissimo ne trova tanti ha dei prezzi veramente convenienti nulla anche dmc ve l'ho detto di fa ma dmc ha dei costi un pochino superiori ovviamente allora io ve lo volevo far vedere poi ovviamente ve lo farò vedere quando sarà terminato adesso io sto terminando il scaldaspale verde mela quello di lucilla alfano quindi poi ve lo farò vedere tra poco tra pochi giorni credo perché ormai è presso che terminato sto cucendo le ultime foglie e quindi poi farò vedere anche quel lavoro finito io vi saluto e come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao ciao